Questa città nonostante, vi permetto di governi, perché sarebbe ingeneroso adesso scaricare tutte le responsabilità su Salvini e Di Ma, i governi io faccio la valutazione da sindaco degli ultimi anni, devo dire noi siamo riusciti a strappare la conquista di alcuni diritti grazie ad alcune battaglie, penso ad esempio per le vele, dove grazie alla nostra credibilità il governo dell'epoca finanzò il bando sulle periferie, però mi par di cogliere una domanda se noi abbiamo mai visto una strategia complessiva dei governi su questo, direi assolutamente di no, la strategia dei governi nella storia degli ultimi 40 anni verso il sud è stata soprattutto una mentalità di spesa pubblica di tipo assistenzialistico, magari il fiume di denaro che arriva e che poi viene molto spesso saccheggiato da quei coaguli di commistioni tra politica, affari e crimini organizzati, Napoli devo dire che in questi anni ha tenuto anche sulle politiche educative, sociali e di sviluppo del territorio, però voi sapete perfettamente perché ne abbiamo parlato spesso che anche nell'ultimo bilancio di previsione poter mantenere la quota per le politiche sociali credo che tra oggi e domani approveremo anche una delibera sul fabbisogno, dove nonostante i tagli che anche l'ultimo governo ha tagliato, ormai stiamo a oltre un miliardo e mezzo di tagli noi addirittura rilanciamo con assunzioni di maestre ed operatori sociali, ma non c'è dubbio che se il governo capisse finalmente, il Parlamento, che la priorità del Paese in queste tematiche soprattutto è quello di investire sui maestri di strada, gli educatori, le politiche di sviluppo, di investimento eccetera, ma è chiaro che il salto di qualità, ma Napoli come altrove potrebbe essere molto molto più rapido, proprio per questo prima dicevo che tutto quello che vedete è tutto autoctono, sia l'energia culturale, l'energia popolare, lo sviluppo, il lavoro, l'economia, ma fino anche alla reazione investigativa che c'è stata, la reazione sui termini della sicurezza, c'è stata nonostante da parte dei governi degli ultimi anni una serie di promesse, perché sono le promesse dei rinforzi che ho sentito fare da Salvini, sicuramente è la polemica chiaramente più fresca farla oggi, tra virgolette, la polemica con Salvini, ma vale per Minniti, vale per Alfano, io ricordo che più o meno la storiella è stata un po' sempre la stessa. Adesso vediamo, giovedì mi par di capire, noi non abbiamo avuto ancora comunicazione ufficiale, ma l'ho letta, quindi ci sarà il comitato, è un comitato sicuramente importante, noi i comitati li facciamo ogni settimana, quindi vedremo soprattutto il Ministro che se ci vuole dire qualcosa, annunciare qualcosa, noi sicuramente porteremo come sempre i dati di fatto, quello che la città sta facendo e anche le doverose richieste di una città e di un sindaco che sanno perfettamente quali sono le risorse, le opportunità, le certezze, le ferite e le problematiche. Grazie. 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 Grazie.